e attenzione Massimo Miletto campione d'Italia M6 attenzione chiude e insulta con il numero 155 rendiamo Marco per te la terza maglia tricolore l'emozione però è sempre quella della prima volta sì certo è un'emozione sempre fortissima quest'anno i sacrifici per arrivare a un'ottima condizione sono stati veramente enormi quindi riuscire a concretizzare oggi è stato importante sono stato sfortunato due settimane fa all'europeo che ho forato e l'ho perso ero in testa oggi ho forato sono riuscito ad arrivare in assistenza ho avuto una pronta assistenza a recuperare sui primi e a staccarli sulla salita più lunga e arrivare primo qui al traguardo sono veramente veramente contento perché è la maglia più difficile tra quelle che ho vinto quindi grande soddisfazione grazie alla mia famiglia al mio team per il supporto che mi hanno dato in questi mesi mi ha detto campione d'Italia M6 attenzione chiude e insulta con il numero 155 per il tempo per il tempo grazie a tutti grazie a tutti